Ok, allora dai, ci vediamo direttamente sulle piste. Ciao, 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 ciao. Beh? Allora, ci raggiungono pure Loredana e Alessandro. Ah, ok. Senti, ecco l'altro, Filippo, dici doveva venire? Non è venuto più. Filippo, non sei niente. E che cosa lo sappia? Filippo è stato arrestato. Arrestato? Eh. E per qual motivo? Violenza sessuale. Non è venuto sul giornale. E non lo è, ma... Violenza sessuale? Violenza sessuale. Filippo ha violentato una ragazzina. Poi ha violentato la mamma. Poi ha violentato il padre e la nonna. Madonna, ma veramente? Ma tu vedi un... Scusa, ma lui che cosa ha detto? Il motivo di questa strada? Lui ci teneva tanto. Ha detto, mi voglio fare una famiglia. Scusa, la fa. Se questo è il desiderio, sai che ce l'ha.